Allora ragazzi io il kit ce l'ho già montato quindi non posso farvi vedere purtroppo il montaggio da zero però cercherò di ricostruire un po quello che è il montaggio l'installazione passo passo insieme a voi prima cosa dovete capire cosa volete raggiungere ovvero volete che il kit che le luci si accendino semplicemente quando andiamo ad aprire la porta tipo luci di cortesia come insomma la plafonera o per esempio in continuazione o a comando cioè con un interruttore o se no ultima opzione con l'interruttore degli anabaglianti ovvero quando accendiamo le luci si accendono pure quelle dei pedali e quindi insomma questo dovete capirlo un po voi perché a seconda del fine bisogna capire da dove prendere alimentazione nella macchina mi spiego meglio se volete che le luci si accendino quando aprite la porta dovete bisognerebbe andare a trovare l'alimentazione della plafoniera centrale se volete un'accensione invece a comando con l'interruttore per esempio delle luci anabaglianti dobbiamo andare a prendere la corrente sul filo che uscirà sotto allo spinotto dell'accendisigari io personalmente ho utilizzato il metodo delle luci dell'anabagliante quindi quando vado a girare le luci e l'interruttore scusate oltre agli anabaglianti si accendono anche i led sotto poi se voglio posso decidere se spegnerli o no tramite questo telecomando perché ho il telecomando ho il telecomando perché il kit con installato io non è semplicemente le strisce rgb ma anche una piccola centralina che gestisce tutte le cose insomma accendo il quadro ok tutto acceso perfetto si dovrebbero vedere le luci accese per esempio per esempio la metto rosso ok si vede il rosso posso mettere verde blu bianco che leggermente azzurrino arancione giallo questo sarebbe ciano che sarebbe tipo un azzurro boh poi vabbè il viola e poi ho altre impostazioni io comunque di solito li tengo bianchi si può regolare l'intensità della luce quindi insomma è un apparecchio molto interessante se voglio posso spegnerlo tramite telecomando off allora ragazzi prima di tutto dobbiamo toglierci la cuffia del cambio basta premerla verso l'interno ci sono i cancetti ecco fatto ora cercherò di farvi vedere bene come è messa la situation dovete sapere che praticamente qui dentro convergono i quattro le quattro strip led perché una sta qui e il cavo passa fa tutto questo giro del pedale giù in fondo e poi basta praticamente qui dentro fino a risalire stessa cosa succede da quest'altra parte da un fondo infatti qui si vede il filo eccolo e arriva qui qui ora andiamo dietro strip led il filo che l'ho fatto passare sotto la barra e poi entrerà qui dentro si fa il tunnel centrale e arriva come come le altre qui dentro non so infatti ci stanno 3000 cavi questi quattro cavi delle strip led praticamente vanno a convergersi in un unico cavo quindi praticamente ci sta una specie di adattatore che ha quattro vie e ne fa uscire una questa unica uscita sarebbe questo filo qui che va a entrare dentro la centralina questo è il sensore per il telecomando dalla centralina esce il cavo dell'alimentazione dall'immagine in descrizione noterete che praticamente un 12 volt quindi alla presa che teoricamente si infila qui dentro io l'ho tagliata ho fatto dentro ci stanno ovviamente due cavi uno nero e uno rosso nero negativo rosso positivo quindi rosso è l'alimentazione e nero è la massa a terra quindi che bisogna fare bisogna smontare questo spinotto e vi faccio vedere come inizia 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 per inizia 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 ce la sto facendo ecco fatto come potete vedere ci sono vari cavi e allora il giallo sarebbe l'interruttore delle luci anabaglianti che quando uno gira dà alimentazione poi ci sta un cavo nero grande e questo grigio rosso quindi vedete questo piccolino rosso e uno piccolino nero che sono quelli che escono dall'alimentazione dei led devo dire che ho fatto veramente un bel lavoro sono sorpreso di me stesso ovviamente dovete sganciare lo spinotto tirate fuori i fili e dovete fare due piccole saldature per fare il lavoro veramente perfetto infatti io il rosso l'ho saldato al giallo e il nero l'ho saldato al nero se il rosso lo saldate al grigio rosso prenderete l'alimentazione sempre quindi anche quando l'interruttore dell'anabaglianti sarà off una volta fatto ciò rimettiamo le cose a posto ok ragazzi come potete vedere i led funzionano fanno una discreta luce molto luminosa ovviamente sono al massimo e si accendono con lo spinotto degli anabaglianti infatti come potete vedere le luci sono scese spero che questo tutorial vi sia stato utile e che io sia stato più chiaro possibile lasciate un bel mi piace se il video vi è andato al genio iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto alla mia pagina facebook soprattutto Mitch Tuning vi saluta ciao a tutti ragazzi ciao a tutti